Quindi amo, siamo tornati e oggi è l'Epifania. Oggi i remaggi mi hanno portato questa. Che cavolo è questa qua? È una calza alternativa. Ma questa qua è una sacca, scusami. Non è una calza alternativa. E tu non mi hai neanche fatto nulla a sacca, mi hai dato una scatola. Ha veramente ancora da lamentarsi. No, nel senso, non ti lamentare. Ma poi cosa c'hai sulle labbra? Non riesco, mi si attaccano le labbra, figa, ti ho dato un bacio. Non è azzecchia nulla. Non riesco a parlare, non riesco. È il mio libglosco e brillantissimo. Delle cose sulle labbra che sono tossiche, scusami. Andiamo. Non guardare dentro. Eh, no. Andiamo alla pesca, ragazzi. Questo è morbido. Sì, ma io apprezzo tutto. LOL. Apprezzo. Ma apprezzo cosa? A calza alternativa intendevo che oltre ai golci c'era qualcosa di diverso, no? Wow. Wow. Cos'è vintage? Super Mario 1985. Ripresa dal bancarella a 4 euro. No. Sei sicura? Secondo te vendono quelle al mercato. Questa qua è bancarella a 4 euro. Ma ragazzi, ma vi pare bancarella a 4 euro, dai. Che bella. Che bella. Rigorosamente XXL. Per forza. C'è dentro qualcos'altro? Sì, ma tu riescono alla volta. What is this? Marron glacé. Quattro euro di esagerare non direi, bisogna aggiungersi. Sbronk. Marron glacé. Aia. Io amo il marron glacé, raga. Grazie Befana. C'è dell'altro. What is this? È piena la calza. Vabbè, che figata è, ragazzo l'ha preso questo, scusatemi. Ma è un coso di caramella in ambientazione videogame. È un marshmallow giga. Cioè, guardate il marshmallow giga. In casglorf. Cos'è bello questo? È grande, vedi, grande. Non è male, non è male. C'è qualcos'altro. Sì, ce n'è di roba. Ma io pensavo che adesso calza alternativa. Calza alternativa vuol dire che oltre la calza che mi affettavo la calza della Barbie, ragazzi. Gli ho spracugnato i coglioni con sta calza della Barbie. Non è arrivata. Sblork. Lindor, ragazzi. Non male. Non male. Intanto ce li mangiamo insieme l'indor. Quello lì non lo apro, te lo dico, eh. Orca troia. Orca, orca troia. Che brava la fana. Orca. E grazie mille Fred, grazie. Orca trota, raga. Queste sono, queste sono peggio della droga, raga. Vero, vero Stefano, dovevi riempire la biscottina. Eh, Stefano, non ci ho pensato, non ci ho pensato. Ma è un maschio, voi maschi ci arrivate poco, eh. Alcuni. Abbiamo anche una stackeling doll, che non so che cavolo sia. Il cioccolatino dei ragazzi. Ma intanto divido tutto con lei, raga. Ma sì, ma ci abbiamo, sai quanti cioccolati ancora che abbiamo. Abbiamo anche i kitty cat chunky, not bad kitty cat chunky. Attenzione, attenzione. Sento qua, mica, ma è piena di roba, raga. Eh, vabbè, dai, queste sono buone. Queste sono buone, raga. Arachidi caramellizzate, sgralzagar. Lol, adesso lui mangerà tutti i dolci e tu dimmi. Wow. Slarghi? Slarghi. Cos'è? Woohoo! Il tartifone, il cioccolato. Tanto, amo, ci mangiamo. Dai, quanto cioccolato mi ha regalato. Sei un ciccione, mi dice ogni giorno. Scusa, scusa, ma scusa, la bellezza di aprire una cosa. Ma mi hai detto calza alternativa. Ma mi hai detto calza alternativa. Ma ti ho comprato le calze di Nightmare Before Christmas. Ma io le calze così non le uso più da tre anni. Ma capito, ma io non... Ah, ma vai avanti, vai avanti a scattarti il video. Lol. Vabbè, questo no, cos'è quello? Il carbone perché un po' mi ha deluso. Ma come il carbone? Un po' ha fatto il cattivo con me. Ma come il carbone, cazzo? Certo, il carbone ci vuole perché ha fatto il cattivo con me. Il carbone no, raga. Ma pensavo non volesse fare dolci. Sì, dolci c'erano. Alternativa vuol dire che c'erano un po' di dolci ed altre cose, tipo la maglietta, le cose, no? Senti, l'anno prossimo, giuro, ti riempò di dolci, minchia. Proprio che devi... Ci nuoti, Dio caro, in cucina. Cosa hai fatto con la Lucy prima? Me l'hai sgridata? No. Che ho fatto? Attenzione. Un altro Chunky. Ah, asto, asto tu. Non lo voglio. Asto. Non lo chiedo, Giuliano chiedo. Attenzione. C'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro? Oh, questo non so cosa sia, aspetta. Smarties, sglorz. Dai, ma porca miseria. Ma porca milione. È il solito, è il solito, ragazzi. E vabbè però, dai. E vabbè però, dai. Sganzaia. Sgazzaia. Questa è una calza alternativa. Due cose che non c'entrano niente con la calza e i dolci. Cosa bello. Intendo così le calze alternative, non senza dolci. Eh, ma la prossima volta cercherò di farlo. Paschio, ragazzi, perché non vi ho postato una cosa di cosa mi ha preso, se no era un scandalo. Cosa? È in più la sacca che si può utilizzare. Oh, amore. Non te la devi mettere in testa, che la rompi. Amo, grazie. Insomma, grazie, dammi un beso. Ragazzi, comunque, fateci sapere quale calza vi è piaciuta di più. Scrivetelo sotto, ok? I nostri video. Andate uno nell'altro quando li postiamo e fateci sapere. Ecco, non c'è paragoniglie. Sia vivo. Sorridi, stai ferma. Ok, abbiamo fatto la copertina. Grazie, amo, per la calza. No, amo, non mi fare queste cose. Dammi un beso. No, non l'ha fatto la bifana, la calza non l'ho fatta io.